Cari amici, oggi vi presento una persona eccezionale, Rebecca Bettarini, una giovane e bella donna italiana che ha deciso di legare il suo futuro alla Russia. Rebecca, buongiorno. Buongiorno. Poco fa sono state annunciate ufficialmente delle sue prossime nozze con George Mikhailovich Romanov, erede della dinastia Romanov, per parte di madre. Oggi non vorrei andare negli dettagli dell'albero genealogico dalla casa imperiale russa. A me infatti interessa la donna che si è trovata nel mezzo di due grandi culture, la russa e l'italiana. Rebecca, come si sente all'incrocio tra due civiltà? Diciamo che le nostre civiltà sono entrambe delle civiltà importanti che hanno segnato la storia del mondo, soprattutto per l'arte, per quanto riguarda l'Italia, ma anche la storia proprio delle relazioni europee, anche del mondo, la Russia. Quindi sono due civiltà che hanno collaborato molto spesso anche nel campo artistico, perché si pensi a San Pietroburgo che è stata realizzata da dei genieri italiani e quindi c'è molta arte che proviene dall'Italia in Russia, così come c'è una derivazione bizantina che si ritrova per esempio a Venezia, che è una città che forse più di tutte ha delle caratterizzazioni molto simili all'arte russa, queste chiese così opulente che si trovano lì. E quindi ci sono sicuramente un grande passato in comune e speriamo anche un grande futuro in comune. Gli italiani amano la Russia e i russi amano l'Italia, quindi questo proprio fa vedere la vicinanza anche delle nostre religioni, che sono molto simili e anche tutta la storia pregressa. Ha la sensazione che sia una grandissima responsabilità. Si sa che le spose di solito sono molto nervose alla vigilia di una data così importante. Lei si sente pronta per il matrimonio? Noi ci sentiamo pronti perché è una decisione che abbiamo maturato dopo molto tempo insieme e quindi è stata una decisione ponderata e ben pensata. Però in questi anni abbiamo comunque avuto una storia bellissima che è evoluta e quindi siamo molto contenti perché abbiamo comunque vissuto moltissimi anni insieme e anche in maniera più privata e riservata. A un certo punto, come tutte le spose, sì c'è molta agitazione, però diciamo che io sono una persona che non si agita molto, quindi cerco sempre di farmi trovare preparata e di organizzarmi per tempo. Però ovviamente è una grande responsabilità entrare a far parte di una famiglia come quella dei Romanov perché è una famiglia importante che ha segnato la storia del mondo e con 300 anni di impero. Quindi è una famiglia molto prestigiosa e riconosciuta in tutto il mondo. E questo è molto per me importante vedere come, a parte personalmente, tutti abbiamo studiato la storia russa, tutti sappiamo di questa famiglia, però vedere come ancora le persone sono attaccate a questa famiglia sia in Russia che fuori, quante volte ci accolgono con grandissima, proprio calore. Quindi per noi è molto importante mantenere questa, diciamo, dinastia dei Romanov viva e presente nella cultura e nella società sia in Russia che all'estero. Dieci anni insieme non è poco. Ci racconta un po' come vi siete conosciuti, che lei ha capito che era veramente proprio lui, l'uomo dei suoi sogni? Noi ci siamo conosciuti da giovani perché avevamo moltissimi amici in comune, però io all'epoca non vivevo sempre in Europa, quindi lo incrociavo e poi partivo, ci vedevamo sporadicamente. Però ad un tratto ci siamo ritrovati a Bruxelles e per me è sempre stata una persona che io conoscevo, avevamo tanti amici in comune, una stessa educazione, un modo di vedere le cose molto simile. Per cui ci siamo trovati e da lì abbiamo iniziato una bellissima amicizia e dopo qualche tempo lui mi ha chiesto di aiutarlo con la fondazione che stava lanciando, la Russian Imperial Foundation, che oggi è un'associazione di beneficenza molto stabilita, che lavora sia in Europa che in Russia, però tutti i fondi che noi raccogliamo vanno a programmi di beneficenza in Russia e quindi abbiamo lanciato questa cosa insieme, che è stato un po' il nostro baby. E poi abbiamo proseguito e da lì ci siamo innamorati e abbiamo iniziato a stare insieme. Io ho sempre visto delle qualità che erano in lui molto speciali, una grande intelligenza, una persona di gran cuore, un bravissimo ragazzo, ma anche proprio una persona pronta ad aiutare gli altri. E siccome sono caratteristiche che io ho sempre avuto anche in famiglia, perché abbiamo sempre avuto della tradizione di beneficenza, mi sono trovata a mio agio con lui. Quindi diciamo che a volte quando ci pensiamo e pensiamo che sono passati nove anni da quando ci siamo messi insieme, ci sembra impossibile, perché abbiamo fatto tantissime cose e non ce ne siamo accorti. Ma la sua famiglia è anche la famiglia con la vita particolare, diciamo. Quando era la prima volta che ha sentito parlare della Russia, del paese che si chiama la Russia? Io, avendo avuto un padre diplomatico, ho sempre viaggiato. Quindi ho sempre conosciuto il mondo da subito e il mondo per me è sempre stato un posto da scoprire meraviglioso. Le culture diverse sempre sono state per me qualcosa di bello da scoprire. Non ho mai avuto un atteggiamento, come dire, chiuso, di chiusura nei confronti di qualcosa che non conoscevo, ma anzi di curiosità. La prima volta che ho iniziato a sentire parlare della Russia, a parte ovviamente a scuola, ma la prima volta che ho conosciuto bene la Russia è stato quando mio padre ha avuto occasione di lavorare per il governo italiano su progetti di collaborazione che avvenivano in Russia, e soprattutto economici, dello spazio, ma che poi hanno avuto anche delle recadute nel contesto religioso. E quindi abbiamo avuto l'occasione di vedere molto spesso delle persone che venivano da parte del governo russo a trovarci, quindi anche di conoscere la cultura russa, oltre alla cultura che si studia a scuola, quindi ovviamente i vari classici, guerra e pace, però proprio conoscere un po' la mentalità e il modo di vivere dei russi, e ho scoperto che in fondo non sono così distanti dagli italiani. Ci sono i ricordi della prima visita in Russia? Sì, io ho visitato San Pietroburgo per prima, era un dicembre, era la neve altissima, copriva tutte le finestre dei musei dove andavamo, e non c'era nessuno di turisti, e quindi quando entravamo nei musei ce li aprivano per noi, aprivano le luci per noi, ed è stata una visita che mi ha profondamente colpito, perché scoprire questo fascino della Russia innevata per me è stata sempre da fiaba, no? E ho visto questi palazzi bellissimi, abbiamo visitato moltissimo la città di San Pietroburgo, mi ha affascinato talmente tanto che quando sono tornata in Italia mi sono iscritta al corso di russo della vostra accademia per imparare il russo. Ci ho detto non con grandissimi risultati, ma ci sto ancora lavorando e prima o poi ce la farò. In tutti questi anni ha scoperto già che c'è il patrimonio russo che le tocca l'anima di più? Non so, una città, le chiese, la cultura, la letteratura, la musica? Tutto, l'arte russa è tutta bellissima, dal balletto ai libri di letteratura, tutto è veramente fatto con una grandissima professionalità e quindi questa è una cosa che veramente anche, essendo io italiana, noi italiani abbiamo la cultura nel sangue e per noi la cultura è molto importante ed è soprattutto qualcosa da rispettare e da preservare e da conservare. Quindi tutto quello che è arte è assolutamente un patrimonio che definisce le persone e la propria storia e quindi è molto importante sempre, anche quando ci sono dei patrimoni storici legati a un periodo storico magari difficile, vanno sempre preservati perché fanno parte della cultura, del bagaglio culturale di un popolo, non solo di un individuo. E oggi lei si sente più russa o italiana? Io mi sento cittadina del mondo, però sicuramente la Russia per me occupa una parte molto importante della mia vita quotidiana perché io vivo a Mosca e sono profondamente innamorata della Russia perché è un paese molto molto interessante che purtroppo spesso in Europa si conosce male e a volte ci sono anche dei pregiudizi e invece devo dire che ho scoperto un paese completamente diverso e molto accogliente e molto profondo. E la decisione di passare dalla Chiesa Cattolica all'Ortodossia è stata facile? No, è stata una decisione molto pensata perché il mio primo avvicinamento con la Chiesa Ortodossa è avvenuto nel 2003 e io ero rimasta molto profondamente interessata dalla ritualità della Chiesa Ortodossa e dalla liturgia e poi devo dire le differenze tra le nostre Chiese sono delle differenze che si sono sviluppate nel corso del tempo ma inizialmente erano dello stesso sinodo e quindi trovo che l'Ortodossia riprende il cristianesimo della prima era e quindi non è assolutamente stato un cambio che mi ha scioccata no, anzi è stato fatto con grande volontà perché trovo che la verità spirituale risieda oggi nella Chiesa Ortodossa e si manifesti in maniera più profonda rispetto a quella cattolica. Ho letto che ha lavorato in azienda aerospaziale poi forniva consulenze ma scriveva anche libri e ora si occupa delle attività della Fondazione Imperiale Russa non le mancherà la varietà di prima? Ha intenzione di continuare a scrivere i gialli? Io in realtà ho lavorato tantissimi anni nel settore aerospaziale e mi occupavo di diritto europeo perché io sono esperta di diritto europeo poi ho fatto delle consulenze perché appunto era sempre in tema dell'ambito europeo quindi penso che il diritto europeo e il diritto internazionale siano in me e rimarranno lì sempre è una materia che mi ha sempre appassionato però contemporaneamente ho anche sì, sempre scritto e quindi per me anche la scrittura è una forma di hobby che poi piano piano si è trasformata in una sorta di impegno più concreto perché mi hanno pubblicato dei libri ma io scrivo per passione e il diritto europeo lo seguo sempre anche quello per passione era diventato il mio lavoro ma ovviamente adesso lo faccio con meno frequenza perché ho una società, sì, di consulenza continuo a farlo però non come prima che ero a Bruxelles ma mi piace, lo farò e poi mi sono impegnata molto con la fondazione all'inizio era una cosa che prendeva meno tempo adesso invece prende moltissimo tempo la fondazione è in grande crescita abbiamo moltissimi programmi in Russia moltissimi progetti nuovi e grazie ad una maggiore visibilità riusciamo anche ad avere più grandi sponsor quindi per noi è molto importante avere degli sponsor grandi che possano finanziare grosse somme perché tutte queste somme vengono donate in Belgio ma poi vengono subito trasferite in Russia e noi abbiamo un approccio molto pratico nella nostra fondazione non vogliamo spendere soldi per affittare uffici o avere del personale che non serve cerchiamo di gestire tutto da noi in modo da essere sempre come dire, spendere tutti i soldi proprio per i programmi di aiuto e quello che speriamo di fare è di ingrandire la nostra fondazione sempre di più quindi non c'è un paese veramente dove sa che ci troverete dopo il matrimonio ci sarà sempre un matrimonio internazionale noi viviamo da due anni a Mosca è una città bellissima ed è una città dove noi vediamo una grande voglia di fare quindi è una città che offre tante opportunità oggigiorno e per quello pensiamo che Mosca sia la città adatta anche per far crescere i nostri futuri figli e quindi noi siamo molto contenti di vivere in Russia se questo rimane possibile diciamo, sì infine una curiosità femminile ci può raccontare la storia dell'annello che indossa? allora, in realtà è stato molto bravo perché è riuscito a sorprendermi e non era facile perché noi parlavamo già di matrimonio da molto tempo e a un certo punto lui aveva avuto l'idea di fare il fidanzamento con i nostri genitori a Mosca ma poi con il coronavirus non è stato possibile allora lui continuava a dire sempre dobbiamo andare a Bruxelles dobbiamo andare a Bruxelles ma c'era il coronavirus tutto era chiuso non si capiva perché dovessimo andare così di corsa a Bruxelles finalmente dopo la pandemia quindi agosto mi ha portata in Belgio e lì mi ha detto andiamo a cena al nostro ristorante preferito però io per strada ho incontrato un amico nostro gli ho detto andiamo al ristorante vieni anche tu e quindi ho rovinato la sorpresa lui in realtà aveva l'anello a Bruxelles nascosto perché era un anello di famiglia che gli era stato donato da sua madre quando ha compiuto 18 anni e lui custodiva questo anello gelosamente nella casa di Bruxelles senza che io me ne fossi mai accorta tra l'altro e quindi me lo ha donato all'aeroporto perché mi ha detto io volevo farlo a Bruxelles perché è a Bruxelles il posto dove noi ci siamo rincontrati e dove la nostra storia è iniziata e quindi all'aeroporto alle 7 di mattina aeroporto chiuso mascherine e però c'è stata questa proposta che è stata una gran sorpresa ma anche ha detto qualcosa molto molto carina ha detto sì è una cosa molto carina ha detto i nostri migliori viaggi sono iniziati qui e questo è un viaggio che faremo insieme e ho pensato che è di buono auspicio se comincia qui il suo sposo il 13 marzo compirà 40 anni io vi auguro tutta la felicità per tutti i decenni da venire noi speriamo che adesso con la pandemia finisca e che possiamo essere tutti liberi di vivere una vita normale veramente siamo sempre vicini con il cuore a tutti quelli che hanno sofferto per la pandemia tutti quelli che hanno avuto il coronavirus e anche tutti quelli che hanno perso delle persone care noi abbiamo anche sostenuto con la nostra fondazione delle iniziative per il covid distribuendo alla comunità russa in Italia in altri paesi le mascherine i guanti quando questi non si trovavano quindi abbiamo collaborato e la fondazione che anche fa parte delle nostre fondazioni la Food Bank Rus è una fondazione che ha aiutato moltissimo con il covid ed ha distribuito cibo e generi di prima necessità a tutte le persone in difficoltà sul territorio russo e quindi devo ringraziare i nostri volontari che hanno fatto un lavoro enorme ed anche i nostri sponsor vi ringrazio per tutto il vostro lavoro per questa intervista e spero di rivedervi qui in Italia e anche in Russia grazie a lei